Che possono essere alcuni rimedi per l'alitosi? Ovviamente bisogna capire prima di tutto quali sono le cause dell'alitosi ed è per questo che devi andare sempre dal tuo dentista per capire se ovviamente le cause dell'alitosi sono di origine dentale oppure non sono di origine dentale. Ma ovviamente in questo video non vi parlerò delle cause dell'alitosi perché le potete trovare in un video specifico a parte che ho fatto sul mio canale. Vi fornirò soltanto alcuni consigli che puoi mettere in atto appunto soltanto dopo aver visitato il tuo dentista. In primo luogo mantieni sempre idratato infatti la disidratazione può rendere ovviamente l'alito cattivo. Devi anche avere una buona igiene orale quindi lavarti i denti tre volte al giorno utilizzando anche lo spazzolino e devi masticare il cibo piano per rendere appunto la digestione successivamente più facile e quindi fare in modo che non avvenga una digestione più lunga perché se la digestione è più lunga tendenzialmente si andranno a produrre delle sostanze che potranno rendere il tuo alito sgradevole. E poi ovviamente devi sempre rivolgerti al dentista proprio perché le cause di alitosi possono essere differenti. Ci sono però anche cinque cose da non fare se soffri di alitosi. In primo luogo non devi fare dei lunghi digiuni, non devi consumare alcol, non devi abusare del cibo, non devi fare delle grandi abbuffate frequenti e non devi utilizzare colluttori con olio di chiodi di garofano e ovviamente troppi colluttori possono anche in alcuni casi ridurre il flusso salivare e quindi peggiorare ulteriormente l'alitosi. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace ma soprattutto iscriviti al canale.